Ciao ragazzi, interrompo la mia serata su Netflix per fare una precisazione, perché vedo la timeline, ho dato una sbirciatina alla timeline dei social e c'è ancora il discorso, polemica, Gigio sarebbe rimasto e bla bla, è rimasto sorpreso che il Milan lo ha tradito comprando Magnan e sti cavoli e sti cavoli. Allora la verità è una sola, Paolo Maldini ha chiesto un colloquio in quel di Milanello, il giocatore dopo l'allenamento è scappato, si è infilato in macchina, ha chiamato il procuratore, il procuratore ha chiamato Paolo Maldini dicendosi arrabbiato, indignato perché lui non si doveva permettere di parlare di contratti con un suo assistito. Lì Paolo Maldini ha capito che Gigio Donnarumma aveva scelto Minoraio e non il Milan, quindi da lì la decisione e non si è sentito più in obbligo di avvisarlo delle mosse che poi il Milan avrebbe perseguito, grazie a Dio.